La resilienza è la capacità di una persona di rialzarsi dopo aver preso delle scopole dalla vita non indifferenti. Come faccio? T'ammazzo in 30 secondi. Cioè io lo abbasso a 2, lo abbasso a 2 e tu sembra... Ma se io ne faccio 100.000... Come di attaccare subito quelli grossi e ovviamente quelli grossi però proprio che hanno visto è la differenza sull'altro. No! No, no, no! No, no! Ma scontola! Poi, perciò, perciò, c'è uno specchio e poi non li buttano solo i specchi. Quelli di Pierre... Ora, 2 e 19, scriviamolo, però... Ero i giuncini. Vediamo insieme che cosa fa. Sì, questo l'ho visto, ma l'800, questo nel 1000 e 23. Eh! Ah, 3 e n'i ci sono… Ero i 2, o e ci sono uniforms... Ero i fans eichen, non è di oil e eh! Ero i liquidi in zero e? Ero il riso, ma l'800.000. Ero i 3, vendet� eгор e divervano! Non devi guardare i luci, lo devi terrorizzare, terrorizzare, chi sei, tu chi sei, adesso ci hai terrorizzato Grazie